Con Michele Alfieri, cominciamo il ciclo di interviste con i calciatori del Terzigno Calcio che si impegneranno di qui a breve nel prossimo campionato di prima categoria campana. Siamo alla vigilia del precampionato. Michele, presentati. Mi chiamo Michele, ho 27 anni. Michele Alfieri, esatto. Sono un portiere, classe 92, vengo da Santa Maria da Carità. Sono qui, onorato di vestire questi colori, con la speranza di fare un grandissimo campionato, puntando alla vittoria. Provenendo dal Santa Maria Assunta, i tifosi terzinesi hanno avuto modo di apprezzarti per le tue performance nei due scontri che si sono tenuti l'anno scorso. Che idea ti sei fatto della società terzinese e del suo pubblico in particolare? Sicuramente si evince che è una società molto seria, una piazza calda, quindi merita ben altri palcoscenici, sperando di raggiungere questo traguardo. Tutti quanti insieme. Tu sei di Castellammare di Stabbia. State vivendo voi Stabiezi un periodo felicissimo in quanto la Juve Stabbia la prossima stagione si troverà in cadetteria e quindi affronterà la Serie B. Con quale spirito da Stabbiese riesci a indossare una maglia, quella rossonera che in passato si è confrontata con la Juve Stabbia e con le Vespe? Sì, verissimo. Il mio augurio è che anche questi colori riescono a calcare campi ben più importanti rispetto a queste categorie che attualmente sta vivendo. Spero di dare il mio contributo al massimo, sempre per raggiungere questo obiettivo che è la vittoria del campionato. Un'ultima domanda. Conosci qualcuno dei tuoi futuri compagni di squadra che chiaramente si cimenteranno in un campionato che si auspica possa essere di vertice per i colori rossoneri? Sì, conosco il difensore Gaspar Infante, una persona seria, oltre ad essere un grandissimo calciatore, un grandissimo difensore. Diciamo che mi ha portato anche lui qui, mi ha guardato molto bene della piazza, di questa grande società, persone serie. Quindi le premesse sono ottime, speriamo solo di riuscire a centrare questo obiettivo. E di mister Celestino Bufalo? Anche il mister, conosco una persona seria, anche lui preparata, che sa cosa deve fare, il lavoro che deve fare per farci vincere, per portare a questa grande vittoria. Abbiamo fatto conoscere al pubblico tersinese e da tutti gli sportivi del circondario vesuviano uno dei pilastri, la seracinesca futura del tersinio calcio. Grazie a Michele Affieri ed in bocca al lupo. Grazie a tutti.